Magli ospite della prossima settimana? Michela Giraud Ma chi è? Ma ragazzi, ho capito, noi non possiamo fare un ospite così e poi uno sconosciuto, eh Ma se ne è spugnabile sta sala d'autore, eh? Michela Giraud è una grande artista Michela Giraud è la nuova Susan Sarandon Michela Giraud ha dei capelli sofficissimi Ma che è? Ragazzi, ci sono foto di una sconosciuta qua, Michela Giraud, ma chi è? Il camerino in compenso è Fornox, eh Ciao, 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 grazie, grazie Ecco, hai fatto, hai fatto dove il telefono, sì? Vabbè Capito Prendi il mio curriculum, ora Buona, eh? Mangia Manco questo Che ora è? Le sette Michela Giraud Ehm... Michela Giraud, Michela Giraud, Michela Giraud? Ma state bene ragazzi, state bene? Michela Giraud Oh, Ruggero, grazie, io a forza di farlo svenì, ma stai a venire il gomio del tennista Il film di Michela Giraud è bellissimo Il film di Michela Giraud è bellissimo Ora ripetilo, ma sei Gabriele Muccino Ehm... 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 Ora sei maresciallo Badoglio Ma che c'entra? Ehm... Rosario, Rosario, il tuo programma Fiore, Fiore La Rai? Fiore Non l'ho visto, però è bellissimo.